Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti alla Biblioteca dell'Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale. Un'occasione un po' speciale. Abbiamo eletto questo luogo, luogo appunto di presentazione delle attività dell'ASAC e delle ricerche che abbiamo iniziato nell'embrione di quello che diventerà il Centro Internazionale per la Ricerca sulle Arti Contemporanee ed è magnifico quando gli studenti, 120 studenti che a gruppi stanno partecipando alla prima ricerca che stiamo facendo assieme a UAB, Caposca, Risapienza, IULM, Accademia di Belle Arti e Conservatorio di Musica Benedetto Marcello, vengono a raccontarci i risultati delle loro ricerche che poi verranno messi tutti assieme e dovranno fornire attraverso i dati raccolti un bacino per nuove escursioni nell'Archivio e nella storia della Biennale. Perché lo dico? Perché questo è il luogo di congiunzione fra chi ha fatto la storia della Biennale con il maestro che oggi siamo qui a festeggiare, che purtroppo avrebbe con molta gioia partecipato ma una piccola fastidiosa influenza glielo impedisce e quindi è un segno, come dire, veramente di continuità e di vitalità per cui la Biennale racconta tutte le diverse contemporaneità che ha documentato attraverso le arti che la compongono. è bellissimo che ad un certo momento gli stessi maestri che hanno partecipato abbiano voglia di ritornare e così è successo. È successo che in una visita fatta al Ministro Franceschini da parte del maestro Celiberti è venuto fuori questo desiderio che noi abbiamo accolto con grandissimo piacere. Primo per lui, secondo perché avendo partecipato alla Biennale del 48, inevitabilmente, che è l'anno tra l'altro della mia nascita inevitabilmente ho pensato che anche quello fu stato un anno di ripresa, un anno di resistenza, un anno di rifiuto del fermo dovuto alla guerra, come noi abbiamo ricominciato a lavorare dopo un fermo che per fortuna non è stato per noi un vero fermo totale dovuto alla pandemia. E questa cosa mi ha fatto pensare alla capacità di reazione che la Biennale ha. Anche in momenti storici così diversi, anche in periodi così diversi, come si apre uno spazio, la Biennale torna ad essere il luogo d'incontro delle arti e lo fa attraverso gli artisti, oltre che attraverso i curatori. Quindi sono molto felice che oggi siamo qui per festeggiare Giorgio Celiberti, per raccontare attraverso gli esperti l'importanza della sua arte. Avrebbe dovuto essere con noi anche Recalcati, che pure è rimasto vittima, non Covid, ma di un'influenza normale. Esiste ancora, come si stannutisce o si fa una cosa che tutti ci guardano giustamente con sospetto, però esistono ancora anche quelle piccole malattie, chiamiamole normali, antiche, che sono per fortuna meno pericolose. La scaletta della giornata è questa. Questo saluto voglio anche personalmente ringraziare il Maestro per questo dono che ha fatto a me e all'archivio della Biennale un volume delle sue opere, autografato. E sono veramente grato e mi riprometto di andarla a trovare con i miei collaboratori, con l'avvocato Deborah Rossi, che è la vera capa dell'archivio, e chi vorrà venire con noi per festeggiarle e andare a farci anche uno spuntino in collina da qualche parte in quella meravigliosa terra friulana. Ringrazio Luca Massimo Barbero. Ci sarà un saluto di entro il professor Enzo Di Martino. Chi comincia fra voi prima? Ah, ci sono le videotestimonianze. Il professor Alessandrini che è qui con noi, quindi vediamo queste brevi testimonianze e poi lasciamo spazio al dibattito. E grazie ancora di essere qui, credo che siamo in streaming, quindi mi auguro che anche gli studenti che ci seguono abbiano avuto modo e voglia di collegarsi. Questa è una testimonianza per ricordare e onorare Giorgio Celiberti, pittore, scultore e mio vinco, uno dei maggiori artisti friulani del Novecento, assieme a Giuseppe Zgaina. Era nato nel 1929 a Udine, quindi oggi è un'ultrae o no antenne. Ha partecipato nel 1948 alla Biennale di Venezia quando aveva solo 18 anni e esponendo il dipinto La Ferrovia, realizzato lo stesso anno. Quella Biennale era un'edizione molto ricca di eventi, la prima del dopoguerra, tra l'altro, nella quale esponevano circa 200 giovani artisti italiani. Veniva presentata per la prima volta la collezione Per Gopinai nel padiglione della Grecia. c'era la mostra del Fronte Nuovo delle Alpi con cinque artisti veneziani di grande valore, curata da Giuseppe Marchiori. C'era poi l'esposizione di Gino Rossi, morto appena l'anno prima. E infine c'erano esposte 19 sculture di Arturo Martini, il grande Arturo Martini, e la grande esposizione di Riccata Carrà, De Chirico e Morandi, dalla quale scaturì la furiosa polemica di De Chirico. Giorgio Celiberti è ancora oggi vivo e attivo. L'ho seguito per tanti anni, ma devo dire che è una personalità difficile da definire, perché è stato, nella sua lunga ricerca espressiva, sempre in birico, tra astratto e figurativo. Ha avuto, in effetti, un percorso formativo difficile e accentato, perché da Ude è venuto a Venezia, dove ha frequentato il liceo artistico, ma anche uno studio di Emilio Vedua, protagonista dell'espressionismo astratto italiano, e anche quello del suo coetaneo anche lei di Parmigiani, vettore lirico, molto considerato e non a caso protetto da Peggy Guggenheim. Tra il 1952 e il 1956, Celiberti, che era un personaggio inquieto, e curioso, compie molti viaggi ed esperienze in Europa e assorbe speciali influenze formali in città europee come Parigi, Bruxelles e Londra. Negli anni Sessanta, tuttavia, torna a vivere a Udine, dove avverte l'inevitabile influenza in particolare di Afro e Dino, dei già celibili fratelli Vasanella. Nel corso della vita di Giorgio Celiberti c'è un episodio che va segnalato con il rilievo, perché nel 1965 egli vive una visione drammatica, quella di Terazine, vicino a Praga, dove vede i segni e i graffiti fatti dai bambini ebrei prima di essere condotti ad Auschwitz. si tratta di un'esperienza molto sconvolgente per l'artista che influenzerà infatti tutto il suo lavoro futuro. Negli anni Sessanta perviene anche alla scultura, quindi nella maturità, realizzando le ormai note stelle incise e una serie di animali. Personalmente ho memoria di una colomba in gesso bianca e nera che mi ha regalato in occasione di una vista nel suo studio a Udina. Negli ultimi vent'anni ha esposto un'importante città europeo-americana e ha realizzato il grande mosaico dell'amicizia per l'Università di Nubiana e ancora un enorme affresco collocato in un prestigioso grande albergo in Giappone. Nel frattempo sono state allestite diverse mostre antologiche e retrospettive in importanti sede museali a Udine, Venezia e Roma. Bisogna però a questo punto rimarcare che la proposizione poetica e formale del suo lavoro resta comunque sempre inafferrabile e difficile da definire. ma è ancora in questo aspetto in fondo quella sorta di ambiguità espressiva che risiede a ben vedere il fascino e tutta l'opera di Giorgio Saliberti. di Giorgio Saliberti. Grazie. E' viva, e' viva! Che bello! Vai! 1, 2, 3! Evviva, evviva, buona giornata. Purtroppo i medici mi hanno bloccato a casa e non ho la gioia di essere con voi e di potervi abbracciare, di stringervi la mano, di parlarvi un po' delle mie cose. Voglio ringraziare comunque il ministro Dario Franceschini, per esempio, il presidente della Biennale Roberto Cicurto, la dittoressa Deborah Rossi e tutti i miei amici carissimi che ho a fianco a me qui da Alessio Alessandrini, da Luca Massimo Barbero a Massimo Recalcati a Enzo Di Martino, sono tutti i miei amici carissimi che vorrei abbracciare, che vorrei che loro, anzi, loro parleranno delle mie cose, ma io non sono adatto a parlare di queste cose, di me, che ne so io di quello che faccio. Io lavoro dalla mattina alla sera, io sono un operaio dell'arte e quando mi lasciate libero nello studio io sono in paradiso. Questo momento qua, questo è il vecchio studio che avevo 30-40 anni fa e io ho ancora un'emozione vivissima di queste pareti, di questo soffitto, di questo giardino fuori, di tutte le cose che ho fatto in questo periodo. Che ben si intende? Io non ho più 18 anni, ne ho quasi 23, 93, e il medico mi ha detto che non posso andare qua, non posso andare là, vabbè, accetto, loro mi aiutano a vivere e come posso dire di no. Perciò io vorrei, intanto non vorrei niente, sarei contento di avervi nel mio studio, vorrei che voi altri andaste a guardare in ogni angolo dello studio le cose che ho fatto prima, dopo, durante, le terrecotte, gli inchiostri, gli affreschi, i quadri grandi, i quadri piccoli, i ritratti, il ritratto dei miei gatti, vorrei anche che viveste un'ora dentro nel mio studio e sarebbe molto più interessante delle quattro parole che io vi sto dicendo adesso qua come posso. Ecco, questo è tutto, di vero, di vero c'è che vi aspetto al mio studio, siete accesi, attesi a braccia aperta, questa è la verità, il resto sono tutte parole, auguri, 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 vi abbraccio. Una lezione di stile, il resto sono tutte parole, basta vedere il calore, la semplicità con cui ci invita ad andare a casa sua per riempirci veramente di gioia e di capire come le persone che hanno una storia così importante alle spalle, quando sono sincere, oneste, l'hanno fatto perché non hanno potuto fare a meno di regalarci la loro arte, sono di una semplicità estrema, oserei dire, di una poesia assolutamente che raggiunge tutti noi. L'amico Alessio Alessandrini comincia a raccontarci invece le cose che stanno dietro questo meraviglioso sorriso del Maestro. Intanto la ringrazio, ringrazio la Biennale per questa occasione, che mi dà modo di avere veramente il piacere e l'onore di cercare, perlomeno di sintetizzare in pochi minuti, un'amicizia di oltre 30 anni che io ho con Giorgio Celiberti e che mi ha fatto il piacere, mi ha anche un po' commosso, di avermi annoverato tra i suoi più vicini amici e un'amicizia di natura fraterna e direi quasi più filiale o paterna dall'altra parte. E quindi il mio intervento non sarà assolutamente sistematico, ma sarà l'insieme di alcune esperienze, anche di alcuni aneddoti e di tante suggestioni e di tanti stimoli che ho ricevuto frequentando così da vicino il Maestro. Quindi ci saranno delle sue affermazioni, ci saranno delle immagini, delle storie che lui ha raccontato e che io voglio rivolgervi, partendo dall'idea che davvero con Giorgio Celiberti è difficilissimo, se non impossibile, distinguere l'uomo dall'artista. Per cui lo vedete già in questa immagine con le sue sculture di animali e con gli animali veri, quindi questo senso del vitalismo quasi animistico che lui ha e dei gatti che animano il suo studio e cui lui dedica questa cura che vedete in questa immagine. Comincio a bovo, ma non spaventatevi, non ripercorrerò tutti i 93 anni della vita di Giorgio Celiberti, però questa immagine mi interessa soprattutto per quello che dice aveva due anni qui e dice lui spesso questa frase «Sono un vecchio bambino perché ho la stessa gioia, gli stessi interessi di quando ero piccolo, il ricordo della mia infanzia è un po' la gioia della mia vecchiaia». Questa frase è significativa da una parte perché mostra già dall'inizio come Celiberti non sia un artista che ha scelto questa strada nella vita, ma che la accoglie come una sorta di destino, come un imprinting inevitabile, insomma. Non poteva fare altro che fare l'artista, l'inventore di forme, il ricercatore. E mi fa venire in mente anche questa immagine proprio il titolo della Biennale di quest'anno, insomma. Se The Milk of Dream è un discorso rivolto soprattutto ai bambini e una valorizzazione della loro capacità immaginativa, fantastica, ricreativa, alla capacità del sogno che riveste la realtà, credo che nessuno come Celiberti possa impersonare un'immagine di questo tipo. The Milk of Dream. Da piccolo racconta lui sempre che il suo ricordo più bello è quando la mamma gli aveva lasciato una stanza di casa sua, libera, a sua completa disposizione, e allora lui li ci metteva nei buchetti del muro, delle piccole sculture, dei sassi e trasformava questa stanza in un luogo di sogno. E queste cose rimbalzano poi nel futuro perché se fosse stato qui Massimo Recalcati avrebbe senz'altro da psicanalista analizzato anche le malattie di Celiberti che sono soprattutto la claustrofobia e l'insonnia. E in particolare per la claustrofobia avrebbe spiegato come già questa stanza in cui lui si richiedeva dentro aveva in qualche modo una prefigurazione di tante altre cose, delle celle dei bambini di Terezin, come ha citato prima Enzo Di Martino, e questa idea, questa volontà di rompere la chiusura per accedere a una realtà più ampia. Ma ci sono anche delle questioni forse più prosaiche, più banali. Per esempio lui, se qualcuno ha avuto il piacere di stare a cena una sera con lui in qualche ristorante, dopo un po' si spaziantisce di mangiare e comincia a osservare tutto quello che c'è intorno di bianco, di intonso, di vergine, che possono essere i piatti, che possono essere anche i tovaglioli. E lì comincia a diventare un timore per il gestore del ristorante perché a quel punto lui comincia a prenderseli, tira fuori i suoi penarelli e comincia a disegnare, a disegnarci sopra. Poi non so se potranno essere... E lì soprattutto li regala alle persone che sono in sala, insomma, quindi... Una cosa un po' più alta è che una volta per il suo compleanno gli ho regalato un bel libro di illustrazioni di Giotto e lui mi ha molto ringraziato, lo ha sfogliato, ha visto, però poi ha tirato fuori i suoi micediali penarelli e ha cominciato a rifare tutte le pitture di Giotto alla fine della serata, il libro non era più di Giotto, era di Celiberti. E io mi ero anche un po'... Dico, ti ho regalato sta cosa, ma poi ho capito, insomma, che l'uomo era irrefrenabile come capacità di creatività. Ecco, vediamo se questo qui... Ecco, per esempio, poi è proseguito alla scuola media, Carlos Gorlon, il grande scrittore friulano, era suo compagno di classe e racconta che Giorgio faceva danzare in perpetuo la matita sui quaderni e sugli album di Fogli Bianchi, nonostante i rimproveri dei professori che esigevano da lui un'attenzione normale di scolaro. E quindi è un'altra cosa che testimonia questa sua indisponibilità a tutto quello che non fosse arte, che non fosse disegno. Poi comincia un discorso che, secondo me, nonostante su Celiberti siano state scritte centomila cose e quindi si possa pensare che ormai tutto è svelato, tutto è chiaro, anche basandosi sulla semplicità con cui lui esprime il discorso sulle sue opere. Però in realtà ci sarebbe ancora molto da studiare, anche a livello appunto di scuola, di analisi, di pittura e di arte, perché, per esempio, certamente è stata importante la sua formazione veneziana, la sua vicinanza con Vedova, eccetera, però dall'altra parte bisognerebbe vedere quanto e come abbia influito sulla sua pittura anche un esempio che aveva in casa, e cioè quella di suo zio Modotto. Vedete in questa immagine Celiberti aveva 18 anni, Modotto era del 1900, faceva questo tipo di pittura che poi però si era evoluta, e lui apprezza l'esempio e il modello di suo zio Modotto, che ovviamente è qualcosa di estremamente diverso da quello che troverà poi a Venezia. Però già da qui c'è una grossa differenza, insomma. Per esempio Modotto è stato un personaggio nel panorama pittorico del Triveneto, del Friuli in particolare, molto combattivo, pieno di polemiche, per esempio con Afro Basaldella, fondatore di scuole d'arte, di movimenti, cosa che assolutamente Celiberti non è mai stato affascinato dalla discussione teorica, dalla polemica. Lo avete sentito? Dice, io non sono adatto a parlare, non so neanche quello che faccio. Quindi sarebbe impensabile vedere Celiberti che si mette a discutere o a polemizzare con movimenti artistici di vario tipo. E poi naturalmente però Venezia, Vedova, Tancredi, Ciussi, Ciussi è friulano come lui, praticamente coetaneo, Tancredi aveva due anni di meno e Vedova invece aveva dieci anni di più, due anni di più aveva Tancredi e quindi lui nei confronti di Emilio Vedova ha sempre avuto un atteggiamento assolutamente filiale, nonostante avesse solo dieci anni di meno, anche se poi bisogna andare a vedere esattamente se e quanto l'esempio di Vedova abbia influito sulla sua opera che forse è meno di quello che si potrebbe pensare. Ecco per esempio questo confronto tra le loro tre figurazioni, quello di Celiberti al centro, quella di Tancredi sulla destra mia e quella di Vedova nell'ultima parte e qui si vedono le differenze in maniera molto evidente, il lirismo di Tancredi, quella sul calligrafismo quasi, si è parlato spesso di Vedova come il Pollock veneziano, ma forse sarebbe più opportuno parlare di Tancredi come il Pollock veneziano forse. E invece vedete che la figurazione di Celiberti da una parte, quello sfondo di scrittura, di segni e poi sopra la parte di colore prende un po' di tutti e due, insomma, senza mai però arrivare alla gestualità di Vedova e il suo ordito è sempre molto studiato, non c'è mai l'action painting, insomma. I suoi quadri spesso restano molto tempo nello studio e non sono conclusi alla fine del gesto, per cui lui dice sempre che finché resta dentro nel mio studio il quadro è sempre passibile di modifica, di ripresa, di correzione e quindi c'è una costruttività che si scontra un po' con un discorso strettamente gestuale. E siamo arrivati a questo episodio, ecco, che a me piace sempre ricordare perché ricorda un po' gli esordi un po' bohemian di questi artisti, insomma, qui era 1948, marzo, quindi pochi mesi prima della Biennale del 48 e c'era la prima mostra di arte astratta a Roma e Vedova aveva dato a Celiberti un paio di quadri da portare a questa mostra e lui ha preso il treno, se ne è andato con qualche difficoltà con questi due quadri e è arrivato alla sede della mostra e Vedova gli aveva detto stai attento, sorveglia che non li mettano in un posto poco visibile, in qualche sottoscala, ma che siano esposti bene e quindi lui si è messo lì a far la guardia a questi due quadri senza andare a mangiare, quindi dice è stato due giorni senza mangiare per questo fatto, i soldi non ce n'erano e ricorda con grande gratitudine il fatto che Pietro Consagra, anche lui quella volta giovane scultore siciliano di Mazzara del Vallo, gli ha tirato fuori un panino di pane e cipolla, gli ne ha dato metà e questo ha avviato una grande amicizia tra i due che è continuata poi fino alla morte purtroppo di Consagra. E però qualche mese più tardi abbiamo appunto la Biennale del 48 di cui parlerà diffusamente poi il dottor Barbero e quindi io vi faccio solamente vedere alcune, no, sono tornato indietro, alcune immagini vediamo se non era questa, questo qui è il quadro, questo qui neanche, eccola qua, la Biennale del 48 diretta dal professor Pallucchini che ricordo con piacere perché è stato il mio docente di storia dell'arte all'Università di Padova, una Biennale, ma non mi soffermo qui, molto molto importante, è stato il momento in cui anche l'Italia ha potuto apprezzare Pablo Picasso che fino a quel momento era rimasto censurato per motivi ideologici per molto tempo e Celiberti ha partecipato con questo quadro la ferrovia che avete utilizzato anche nel manifesto dell'evento. Un quadro che io ho cercato di ottenerne l'immagine a colori ma che non ho trovato da nessuna parte ma ho visto che anche voi non l'avete trovata e quindi c'è solo l'immagine in bianco e nero e purtroppo questo che è un quadro un po' iniziale della sua carriera importante credo che sia in qualche collezione privata da qualche parte non so se qualcuno magari sa dov'è ma in realtà è un quadro praticamente scomparso potete aiutarmi da laggiù ecco allora la pittura di Celiberti in quegli anni era questa qualche cosa che confinava col cubismo con questi segni grossi nelle nature morte con questi paesaggi non certamente quella che noi conosciamo oggi e un passaggio che io ho sempre molto valorizzato è stato questo di questa mostra alla galleria l'obelisco di Roma del 1961 in cui ancora la sua figurazione era questa che avete visto in cui però ci sono alcune testimonianze di personaggi importanti come Virgilio Guzzi come Renato Guttuso e soprattutto quello che a me sembra veramente quasi profetico un piccolo intervento di Italo Calvino che dice delle cose di Celiberti che forse potrebbero essere utilizzate nella loro sinteticità ancora oggi per definire l'arte di questo pittore e lo fa quando non conosceva ancora il linguaggio che si sarebbe evoluto successivamente dice la sua pittura mi piace perché è robusta e raffinata nello stesso tempo ecco quest'altra nuova coppia di parole che potrebbero sembrare contrastanti una con l'altra come era contrastante la formazione da vedova a modotto e come può essere contrastante il discorso tra robusta e raffinata nello stesso tempo c'è dentro un senso di solidità delle cose una soddisfazione della fisicità e poi la frase più saliente è il finale un piacere nella fatica di esistere anche questo sembra un ossimoro un piacere nella fatica di esistere e credo che sia una frase brevissima ma che definisce assolutamente il modo di atteggiarsi di Giorgio Celiberti di fronte all'arte di fronte alla vita e anche di fronte alla storia queste sono appunto altre opere di quel periodo e poi si arriva a quello che diceva anche prima Enzo De Martino al discorso del 65 anche qui c'è da da studiare questa situazione perché nel 65 lui incontra queste poesie questi disegni dei bambini di Teresing e dice che è stato il momento più drammatico e risolutivo della mia storia di pittore da allora ho vissuto tutta la pittura per segni e testimonianze segni e testimonianze e questo può essere un quadro assolutamente significativo di quel periodo e del discorso dei segni e delle testimonianze in cui il simbolismo è affidato soprattutto al colore oltre ai piccoli segni che richiamano i graffiti di quei bambini a Teresing però in questo periodo lui comincia a utilizzare il bianco il rosso e il nero che sono i colori fondamentali anche delle pitture rupestri insomma cioè gli antenati della pittura e poi vedremo che alcuni critici importanti sottolineeranno questa cosa una sorta di tentativo di andare a recuperare il primitivo il primigenio insomma l'immagine archetipa che testimonia e simboleggia la drammaticità della storia della dialettica storica e lui diceva ci raccontava spesso che quando tornava a casa dallo studio ed era stato colpito da avvenimenti di crudeltà di violenza di guerra che avvenivano nel mondo la cosa lo sconvolgeva a tal punto che chiamava a casa sua moglie per dire ma Massimo suo figlio il bambino è già a letto perché non voglio farmi vedere da lui sconvolto da queste cose quindi potrebbe sembrare che una pittura di questo genere possa essere molto lontana da una interpretazione storica invece in realtà è una espressione proprio di reazione di sentimento a una situazione del mondo una situazione storica ecco un altro anche qui vedete bianco rosso e nero e finalmente dopo tanti anni ha potuto nel 2011 lasciare una sua impronta concreta nel cortile di Teresing vicino a Praga con questa grande stele questa è una delle espressioni sue di scultura più significative ne parleremo se possiamo un attimo più avanti e questo è il suo contributo proprio a quel luogo che secondo lui è stato determinante insomma per la sua per la formazione del suo linguaggio artistico però ripeto qui bisognerebbe capire bene se davvero questo incontro storico sia stato quello che ha fatto partire che ha insegnato questo linguaggio a Celiberti o se invece fosse maturo per una rivoluzione nel suo linguaggio e cercasse solamente un pretesto esterno per poterlo giustificare in qualche modo anche perché se parliamo degli anni 62 63 65 sono gli stessi anni in cui anche gli altri suoi amici sono pervenuti a un discorso informale ormai definitivo lo stesso vedova insomma e anche Ciussi nel 64 che Ciussi ha cominciato a esprimersi solamente attraverso un linguaggio astratto più geometrico per cui erano anni evidentemente in cui si richiedeva questo passaggio di figurazione però Celiberti ne ha trovata una giustificazione che poi ha dato anche negli anni successivi un forte sostrato morale insomma alla sua opera di intervento storico e non quindi arte per l'arte e vorrei leggere un me lo sono preso proprio prima di venire via una frase di un critico che purtroppo è mancato proprio pochi giorni fa che era Licio Damiani che ha lavorato tanto alla RAI vedo qui Ferruccio Gard e che è stato uno dei più sottili interpreti dell'arte di Celiberti approcciandola non tanto con i criteri della critica d'arte quanto della poesia insomma ci ha riversato sopra le sue parole e dice che Teresin sia stata per Celiberti un'intima esperienza personale forse addirittura cercata per caricarsi e non un'occasione per impostare un discorso su dei contenuti storici lo prova il permanere delle suggestioni figurali di quel periodo nelle opere più recenti e infatti lui dal 65 in poi questa successione è rimasta centrale fondamentale nella sua produzione artistica ecco per esempio questa è una terracotta tipica di quei segni per cui di volta in volta Celiberti può essere accostato alla pittura informale alla pittura concreta alla pittura gestuale anche alla pittura concettuale però senza mai lasciarsi brillare all'interno di una di queste correnti ecco per esempio André Verde ha scritto una cosa che mi trova molto molto d'accordo e infatti dice si rivela in certe composizioni il moderno discendente degli artisti rupestri ecco che potrebbe sembrare un'affermazione un po' sibillina dice amo le sue tele trattate come la fresco composizioni tattili e insieme rudi e sensibili rese come muri tormentati e poi fa un discorso ideologico sull'arte degli anni 60 i disastri dice del realismo socialista stanno a mostrarci la strada che è la strada declamatoria con cui non bisognava impegnarci Celiberti trascende lo stesso fatto storico e raggiunge uno spirito plastico in cui l'evidenza dell'arte in sé suscita ed alimenta il risveglio della nostra coscienza profonda ecco quindi in quegli anni potevano esserci due due vie principali quelle dei pizzinato dei guttuso eccetera dimostrare una un impegno politico attraverso le loro figure i loro quadri in Celiberti questo impegno non manca ma è attraverso un altro tipo di linguaggio più interiorizzato e appunto che ricerca addirittura esiti antichi esiti primordiali per esempio prosegue con il discorso un ciclo dedicato ad Anna Frank aspetta prima c'era con quadri monocromi di questo tipo in cui evidentemente al rosso il nero si sostituisce un monocromo bianco a testimoniare l'innocenza e il martirio di questa ragazza e un'altra visita importante è quella del cimitero di Praga il cimitero ebraico di Praga e da questi piccoli monoliti lui trae alcune figurazioni come queste che potrebbero sembrare tratte dallo stesso luogo ecco avrei avuto particolare piacere che ci fosse Massimo Recalcati quest'oggi perché tra le varie i vari interventi critici che ci sono stati su di lui uno dei più recenti e dei più singolari è stato quello di Massimo Recalcati nel libro nel libro Il mistero delle cose nove ritratti di artisti da Burri Morandi Caunelli Svedova e anche Celiberti e avevo trascelto una frase tratta da quel saggio questo va indietro ecco discorso psicanalitico che fa Recalcati dice dice a un certo punto anche qui con una sorta di paradosso dice non è l'ispirazione che produce l'opera ma è l'opera che produce l'ispirazione se fosse venuto lui qui oggi avrebbe potuto sottolineare spiegare più esattamente che cosa significa però io ho trovato una frase dice Liberti molto più antica che sostiene poi questo discorso spesso dice a posteriori osservando un'opera compiuta ci leggo dentro spinte interiori che non avvertivo nell'atto della creazione un po' di nuovo quello che diceva prima dice io non so quello che faccio però dopo che l'ho fatto dentro a quello che ho fatto trovo delle spinte e quella la cosiddetta ispirazione che è un concetto romantico insomma che lui non coglie e che invece vorrebbe dire che il lavoro avete sentito dice io sono un operaio dell'arte insomma e dal lavoro nasce l'altro lavoro ci trovo dentro anche per esempio nei titoli qualche volta discutiamo io e lui sul titolo di un quadro e lui mi dice che ovviamente il quadro non nasce con il titolo il titolo viene dopo però una volta che gli si è messo il titolo da quel quadro gli emerge una interpretazione che gli dà una spinta per operare ulteriormente quindi sono condizioni anche esistenziali di Giorgio che poi vengono appunto e sono state riprese anche da 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 recalcati e anche prima De Martino citava quello che ha fatto in questo hotel Kavakiu di Shirahama in Giappone nel 1991 è un po' lontano per andarlo a vedere ma vi faccio vedere un paio di immagini spero che vadano avanti ecco lì lui che soffre di claustrofobia che non ha mai preso l'aereo negli ultimi decenni in vita sua però insomma lo hanno tanto lo hanno fatto sedere nella nella cabina di pilotaggio lo hanno blandito in tutte le maniere lo hanno portato fino in Giappone dopodiché lo avevano invitato a realizzare altre opere a Singapore di qua e di là e allora ci dice andrei volentieri ma se non si potrebbe andare anche in macchina oppure con un piccolo aereo di fare un salto e poi quindi avevo dovuto rinunciare a questi ulteriori ma eccolo la sala sono 800 metri quadrati di affresco e quello che è sorprendente è come in quest'opera c'è Liberti pur non rinunciando minimamente al suo linguaggio solo con qualche piccolo accenno diverso ma riesca a inserirsi in una civiltà figurativa come quella giapponese che sarebbe tutt'altra cosa insomma questo calligrafismo queste cose eppure nello spazio immenso di questi 800 metri lui riesce ad essere se stesso e in più anche colloquiare con una civiltà molto lontana e molto diversa e questo sta a significare come la sua arte proprio anche nelle sue intenzioni cerchi di essere al di qua della storia al di qua delle religioni al di qua delle filosofie per cercare qualcosa di primordiale insomma una base primordiale dell'umanità e questo è un poeta Amedeo Giacomini che fa parte degli intellettuali friulani e che ha detto una cosa interessante ecco dice un'osmosi perfetta tra lo specifico della scultura e quello della pittura della scultura forse per la prima volta dopo Medardo Rosso e in effetti oltre alla pittura oggi Celiberti è uno scultore che va osservato con la stessa attenzione con lo stesso con la stessa curiosità di interpretazione delle sue cose ecco le quali sue stele lui piace pensare che il termine stele abbia una etimologia che deriva da stella stelein in greco qualcosa di fisso le stelle fisse in realtà non è così ma le etimologie si lasciano giocare molto spesso ma in realtà c'è questa idea anche qui primordiale di alzare qualche cosa verso il cielo che può essere una preghiera ma può essere anche una sfida può essere queste cose di alluminio che sono così moderne però ti fanno venire in mente subito i monoliti di Karnak Stonehenge gli obelischi egiziani insomma in tutte quante le civiltà si possono tirare fuori degli elementi verticali che da terra si alzano a partire dalla torre di Babele insomma biblica e mitica ai minareti ai campanili al remo di Ulisse piantato sulla tomba del suo compagno caduto e quindi c'è una primordialità e gli dà un significato di memoria tanto è vero che ecco per esempio nel 2017 una sua stella una sua scultura è stata posta sul monte festa in ricordo dei caduti della prima guerra mondiale per cui queste opere hanno questo questo sostrato insomma di proprio di monumentalità etimologica d'ammonio insomma ricordate insomma io le vedrei bene se dovessimo mandare qualcosa sulla luna una stella di Celiberti potrebbe stare molto bene con le sue scritte che ha a significare la nostra civiltà non solamente quella occidentale comunque ecco per esempio Branecovich questo studioso croato credo dice Celiberti con la scultura ci restituisce l'origine mitica e magica della scultura ci introduce al sublime dove l'impulso sensibile sollecita la vibrazione spirituale ma l'interesse è l'origine mitica e magica e lo si vede nei suoi animali che sono come dire figurativi in qualche modo però hanno l'aspetto della preistoria sembrano animali che vengono fuori da momenti ancestrali sono quasi dei prototipi i suoi gufi i suoi gatti tanti le sue capre i suoi cavalli come abbiamo detto ecco io li ho paragonati a questi tori di ghisando in Andalusia che non avevo più la fotografia che avevo fatto io e ho dovuto ricorrere a internet ma lo spirito è lo stesso insomma questa presenza animale prototipa quasi sono dei tori ma rappresentano l'anima animale soprattutto senso dell'archeologia ecco qui un'altra un'altra coppia di passioni di celiberti che potrebbero essere contrastanti adesso a 92 anni fa un po' fatica a fare sia l'una che l'altra però è stato un grande appassionato di biliardo e allora questo era la parte appollinea della sua passione perché queste geometrie perfette i materiali della palla che girava che colpiva lo affascinava e però un'altra cosa che lo affascinava era un'arte invece sostanzialmente dionisiaca come quella del calcio per cui può succedere di tutto in una partita di calcio e lui era un grande appassionato con amicizie nel mondo del calcio con gli allenatori con i giocatori gioielli utilizzando il suo linguaggio sia pittorico che scultoreo ha realizzato tutta una serie di piccoli gioielli d'argento di questo tipo e poi ci sono questi che sono i cosiddetti muri e lui ne ha centinaia però deve ancora come dire esplicarli mostrarli in una mostra autonoma che sono delle formelle di terracotta che ancora una volta rimandano a esperienze quasi mesopotamiche antiche archeologiche e potrebbe sembrare che questo tipo di linguaggio possa prestarsi a poche variazioni invece ripeto sono centinaia i quadri che lui ha realizzato con questa tecnica e che si aspetta insomma di lui stesso aspetta di poterli utilizzare perché in lui c'è soprattutto questo grande ottimismo qualche tempo fa avevo assistito a un'intervista di un giornalista del messaggero veneto che gli ha chiesto ma maestro quali sono state le sue opere più importanti e lui immediatamente senza neanche aspettare un attimo ha detto quelle che farò domani e quindi possiamo stare tranquilli come dire nel fatto che queste non saranno le ultime cose non posso non ricordare l'importanza che ha avuto sua moglie nell'accompagnarlo nella vita lui diceva che se io non avessi Ina io non saprei vivere perché io sono nello studio che produco arte e non sono capaci di fare nient'altro mentre lei è stata quella che mi ha guidato purtroppo è scomparsa da alcuni anni qui ci avevo scritto grazie chissà se viene fuori per l'attenzione grazie a voi quindi sto volando sulla mia data di nascita ci parlerai della biennale del 48 grazie presidente sono io dovrei ringraziare ma soprattutto adesso aggiungo un dato di più allo studio della biennale del 1948 quindi la data di nascita del presidente per cui questo mi sembra una cosa piuttosto interessante devo ringraziare non solo per l'invito ma anche Giorgio Celiberti per avermi salutato in questo modo così tra l'altro anche molto contemporaneo a cui siamo stati recentemente purtroppo abituati ma insomma sicuramente col presidente cercheremo di fare un viaggio insomma un punto spero anche abbastanza in sintesi generalmente quando si parla di una biennale di grande svolta si parla della biennale del 1964 si parla della biennale del 64 perché ovviamente è indicativo di un cambio di orizzonte rispetto alla centralità dell'arte contemporanea rimasta sempre in Europa e lo spostamento di quell'orizzonte ovviamente anche del mercato di quell'orizzonte verso gli Stati Uniti quindi l'Europa con Parigi cede come dire agli Stati Uniti essenzialmente con New York ma generalizzo ritengo invece e anche io sarei curioso di vedere l'opera a colori insomma e quindi partiamo come dire proprio ritengo invece che per capire e lo abbiamo appena visto come dire il panorama dell'arte non solo italiana ma europea devo dire mondiale internazionale si debba invece ricorrere alla Biennale più importante per gli storici dell'arte che è la Biennale del 1948 spiegare Presidente la Biennale del 1948 sarebbe come dico sempre insomma come cuocere un uovo sul vulcano insomma è molto molto difficile mi sono permesso tra l'altro di un po' se avrò bisogno poi anche del ecco ho permesso di portare alcune immagini non solo e ogni onore di Celiberti ma anche l'idea proprio di uno studio che è stato fatto tra l'altro proprio partendo dai materiali di documentazione e soprattutto perché anni e anni fa e qui come dire introduco un'altra figura curiosa Germano Ceyland mi chiese di curare anzi di ideare una mostra esterna alla Biennale e si fece questo che era un laboratorio su Venezia e quindi incominciai a cercare tutti i documenti eccetera tempo prima l'ASAC che è stato come dire il nostro punto di riferimento da studenti insomma era raggiungibile ma le fotografie erano praticamente inarrivabili c'era una sorta c'era una sorta di insomma centellinamento di materiali dovuto a selezioni quasi naturali per poter avere delle fonti di iconografiche e trovai invece un archivio piuttosto curioso questo ancora negli anni 80 e poi in occasione negli anni 90 della Biennale del 97 che era l'archivio Camera Foto che avevo frequentato già dei primissimi 90 e quindi che studiai catalogai e riuscii in un qualche modo a salvare portandolo a Modena può sembrare un po' curioso per cui vorrei iniziare ecco con queste due immagini questo è un aereo che trasporta le casse per la per la Biennale del 1948 vorrei farvi vedere la seconda la seconda parte della fotografia ecco potete leggere anche chi è presente in questo arrivo delle casse e quello è l'aereo come dire polacco che porta le opere della nazione Polonia e come potete notare sintomatico è un aereo da guerra malamente ricoperto di colore e che quindi segna proprio come dire la fine mi è piaciuto presidente quando hai accennato proprio quest'idea doppia di riapertura di rinascita con le debite a differenza sia di tempo che di modalità proprio perché quella è stata una biennale fondamentale in cui riuscirono a partecipare soltanto 14 nazioni erano ovviamente molte meno insomma e questa fotografia rara scoperta così per caso mi lega e introduce un po' il tema con questo linguaggio di Giovanni Ponti il presidente di allora che è un linguaggio un po' da istituto luce insomma nell'apertura della prefazione nel catalogo quando dice dopo sei anni di interruzione a causa della guerra la biennale riapre i battenti dei suoi padiglioni da tutte le regioni d'Italia dalle lontane vicine nazioni dell'Europa e del mondo hanno approdato a questa nuove città che i secoli e il furore della guerra hanno osservato in colume all'ammirazione e alla gioia degli uomini le opere create in quest'anni di sofferenza e di travaglio quindi una sorta di grande di grande introduzione di Ponti alla rinata tra l'altro biennale che celebra in quel modo anche il suo come dire una sua celebrazione di cinquantennale decennale eccetera per cui l'idea è proprio quella di riaprire in grande stile e come si diceva prima ottenendo tra l'altro dal governo e dalla nuovissima come dire neonata repubblica in un qualche modo anche dei fondi per risistemare la biennale il catalogo e alcuni alcuni documenti appunto della biennale compresi i verbali specificano anche quali sono stati gli interventi le nuove facciate tipo quelle del padiglione belga fatta da Vallotte chi ha fatto il bar quali sono state le assegnazioni quindi come dire c'era questa volontà assoluta che è una volontà che scusate ma punto dove eccolo qua una volontà che è dovuta a un altro signore piuttosto interessante che è stato nominato e mi fa molto piacere insomma ad Alessandrini che è Rodolfo Pallucchini Rodolfo Pallucchini è il segretario generale indegnamente io siedo al suo posto come dire di direttore dell'istituto di storia dell'arte della fondazione Cini che ebbe per decenni insomma ma all'epoca è segretario generale della Biennale e devo dire ha una straordinaria idea anche di quella che è come dire la volontà la comunicazione e soprattutto la documentazione perché queste fotografie sono state fatte da un fotografo veneziano che Pallucchini ha portato con sé in Francia nella visita a quello che è considerato comunque il minotauro del contemporaneo cioè l'innominato Picasso in Italia anzi invitato nei primissimi anni del Novecento rifiutò la partecipazione alla Biennale un tempo si invitavano gli artisti e a loro a discrezione accettavano meno quindi Pallucchini fa una primissima mossa cioè quella proprio di andare direttamente alla fonte delle contemporaneità la fonte delle modernità e porta con sé appunto la documentazione e il suo fotografo personale Picasso come sappiamo gestore straordinario della propria immagine e della propria opera quindi si presta ad una serie di fotografie insieme poi all'altra visita scusate eccellente ups master all'altra visita eccellente che Pallucchini compie sempre nel sud della Francia a Matisse che addirittura come dire inizia per i visitatori così come Picasso a trastullarsi con le ceramiche che lo resero poi noto insomma Valery a ritagliare in questo gesto aereo come dire la purezza tipica proprio del Matisse di quegli anni quindi cosa compie anche abbastanza di curioso Pallucchini compito non facile in un qualche modo all'interno della neonata biennale ricostituisce la giuria e lo fa con essenzialmente cinque artisti e cinque critici è un tema abbastanza curioso presidente gli artisti sedevano in giuria quindi con modalità completamente diverse ovviamente era ancora una sorta di salon però rinnovato i cinque artisti sono Carrà Casorati Marini Morandi e Semeghini i cinque critici Barbantini e questo devo dire che già cinque artisti ma cinque critici così Barbantini Longhi Pallucchini Ragghianti Venturi il come dire il gota della storia dell'arte e secondo me anche adesso non so se dovrebbero esserci ma non li vedo ma insomma niente il gota della storia dell'arte ma anche come dire una delle cose più più terribili che la storia dell'arte poteva ma avrebbero messo delle sorte di griglie fra di loro ed è interessante proprio perché sia Ponti che poi Pallucchini rammentano la proposta di Longhi che è quella della mostra degli impressionisti quindi i due grandi punti la introduzione del come dire segno puro dell'attuale no? quindi della contemporaneità con Picasso e non solo poi vedremo Clay eccetera e dall'altra come dire se vogliamo ancora in modo ormai oggi da ritenersi obsoleto e desueto ma insomma centrale della nascita dell'arte contemporanea cioè l'impressionismo quindi l'impressionismo proposto da Longhi quindi una cosa molto curiosa almeno un altro punto molto interessante appunto prima parlavamo di quest'idea è che in effetti l'Italia in quel 48 ma già da due anni prima con la nascita del fronte nuovo delle arti in un qualche modo l'Italia come l'Europa risentono di una sorta di neopicassianesimo cioè un'idea di una forma come dire nuova che si sostituisca alla cosiddetta figurazione oggi si direbbe tipo sintetizzata o meglio quel termine curioso insomma che è un po' astratto ma insomma e in realtà il neopicassianesimo di cui risente ampiamente il fronte nuovo delle arti tra le altre cose in quasi tutta la sua compagine forse eccetto due o tre straordinarie eccezioni non è legato a Picasso ma è legato ai francesi di quegli anni personaggi oggi scomparsi uno per tutti Edouard Pignon quindi che già rileggevano la storia dell'arte quindi la Biennale del 48 come dire apre e chiude un periodo e debbo dire questo lo trovo veramente molto onesto in un periodo in cui alcune cose sono innominabili per correttezza ovviamente la Biennale del 48 in un momento così come dire nuovo così assoluto così di rimozione ma questo è il punto che mi interessa di rimozione di un certo tipo di atteggiamento nei confronti dell'arte e della politica decide nel 48 di fare la mostra di Arturo Martini la grande mostra personale cosa abbastanza curiosa se ci pensiamo insomma un artista come dire connivente almeno così dice insomma ufficialmente con il regime appena terminato drammaticamente la storia dell'arte si erge più alta del giudizio come dire politico corrivo politico e per eccellenza il termine legato poi all'efimero della durata termine che l'arte non conosce se non è la distruzione dell'oggetto e quindi celebra Arturo Martini con una retrospettiva curata da scusate ma ovviamente come dire siamo alla Biennale in una come dire dei luoghi più preziosi della cultura del Novecento e soprattutto cerco di tirare l'acqua al mulino di quelle figure di cui si parla molto poco di cui ci occupiamo invece per studiare che sono gli storici dell'arte che vengono sempre un po' così insomma curata da Umbro a Pologno lo dico qui e quindi insomma questo per per ricordare che dietro le grandi fatiche dietro le grandi istituzioni ci sono anche degli uomini insomma delle donne Carlo Carrà Giuseppe Marchiori Giuseppe Mazzotti che esegui praticamente i grandi forni per Martini quindi l'idea era proprio quella di questa questa celebrazione Martini è appena morto e tra l'altro poi con questa testimonianza incredibile che è quella la scultura lingua morta quindi questo suo che consegna in un modo questo testamento proprio la fine della vecchia scultura del Novecento e l'inizio di una nuova scultura contemporanea che lui stesso stentatamente come dire cerca di presentare e tra l'altro è l'unica volta che in Biennale perché poi ci provarono in tantissime ma era impossibile venne appunto si presentò la famosa Donna che nuota sott'acqua non cito Mario De Luigi ancora ma voglio salutarlo in questa occasione espose tra l'altro quattro opere piuttosto importanti fra cui L'Ogivanna Gli Amori eccetera che collaborò insomma a questa avventura un po' curiosa fino alla testa mozzata perché poi venne comprata da un collezionista alla Biennale venne murata viva mi sembrerebbe curioso dire per una scultura ma venne murata viva in un appartamento milanese quindi vi uscì soltanto poi negli anni 2000 penso non uscì più ecco Martini poi abbiamo già citato anzi saluto anche il nostro Enzo Di Martino che è stato forse uno dei primi a interessarsi così nelle pubblicazioni alla storia della Biennale insieme appunto all'idea proprio di Gino Rossi nel catalogo si dice una cosa piuttosto curiosa Gino Rossi morto di recente ma già come se fosse morto passati i suoi 24 anni perché era inchiuso come sappiamo drammaticamente nel manicomio e quindi insomma un altro personaggio straordinario legato al coraggio come dire di presentare queste grandi soluzioni e poi ci sono altre altre prospettive tra cui una molto curiosa anzi alcune molto curiose Campigli Maccari e Maffai ma poi vedremo The Peas la Biennale invita 400 artisti 407 artisti e poi ne sceglie 227 24 quindi è abbastanza intensa come scusate ma ecco questo è quello che citava che si citava prima questa è una stanza elegantissima tra l'altro allestita da Carlo Scarpa della cosiddetta mostra dell'arte metafisica quella che poi creò il grandissimo scandalo non l'unico con la Biennale di Giorgio De Chirico curiosamente questo anche dei documenti la mostra una delle mostre proposte per le grandi personali ovviamente dal nostro caro Longhi sappiamo era sicuramente uno dei suoi grandi amori che era Giorgio Morandi ma si decise di fare questa mostra su un movimento scrive lo stesso Pallucchini ma ricordano in più su un movimento che ha cambiato la storia dell'arte del ventesimo secolo ma non così noto l'arte metafisica e si presentarono i famosi mi permetterete di cegliare insomma quattro quadri che Morandi fece metafisici insomma anche interessanti insomma degni di un buon falegname dipinto insomma rispetto al grande mostro straordinario l'unico vero e assolutamente insopportabile Giorgio De Chirico che ne fu effettivamente insieme al fratello il fondatore il premio viene dato appunto a Giorgio Morandi e questo come dire capitanato peraltro curiosamente da altri quindi è una cosa piuttosto curiosa ci sono pochissime testimonianze io sono molto felice di queste fotografie perché come vedete sono state fatte da fra virgolette un'agenzia sono anonime nel senso che non conosciamo a parte il titolare dell'agenzia camera foto che si chiamava Yarak però venivano mandati questi fotografi ad occasione quindi veniva richiesto un servizio come succede oggi veniva richiesto un servizio i giornali americani chiedevano quello c'erano come dei figuranti venivano addirittura presentati modelli di moda di creazioni eccetera eccetera e quindi hai solo alcune angolature non sono di documentazione ma sono abbastanza curiosa ecco parlavamo del cambio della scultura uno anzi un ritorno molto importante a parte un ritorno alla biennale molto importante è quello di Henry Moore Henry Moore diventa da questo 48 praticamente tra l'altro nel catalogo il presidente parla anche del 48 come ritorno di una nuova democrazia come nel 1848 con i moti per la nazione italiana quindi questa questa biennale assume come dire un valore tant'è che Einaudi è presente e come dire è costretto a passarci anche molto tempo per cui insomma e lui diventerà come dire uno dei punti di riferimento poi vedremo anche perché quindi questo per darvi alcune punte di internazionalità e devo dire a tratti anche dei bellissimi ritratti scusate eccolo ed è interessante guardo alcuni responsabili a comunicazione eccetera perché gli artisti venivano ovviamente messi in posa durante questo making of che oggi chiameremo making of da mettere sui social insomma in un qualche modo sono piuttosto interessanti perché danno anche questo aspetto un po' come dire di vigore umano avrebbero detto un tempo scusate eccola ecco se ne accennava prima io penso che una delle battute che Peggy scusate ho questa abitudine essendo stato 19 anni uno dei curatori della collezione ma voglio dire Peggy preferisse era quella tipo beh sì mi hanno offerto di mostrare la mia collezione nel padiglione grecia e sono diventato una nazione nella nazione Peggy Guggenheim le auspicate partecipazioni tra l'altro a Lucchini insistette parecchio per poterlo ospitare non fu come dire un percorso facile come non fu mai un percorso facile all'inizio per le opere di Peggy Guggenheim questo va ricordato perché oggi è molto celebrata ma la sua collezione come dire provava assolutamente delle resistenze e devo dire forse fu la cosa più puntuale per cucire tutte queste partecipazioni straordinarie immaginate Picasso Clay l'impressionismo Sora le grandi partecipazioni internazionali le nazioni come dire sfoggiarono il meglio con fatica delle loro artisti contemporanei tra l'altro attenzione destinati a governare il mondo dell'arte contemporanea fino agli anni 80 quindi per restanti 40 anni in un qualche modo insomma e quindi Peggy con questa sua storia transoceanica prima si parlava del 64 in realtà l'arte americana cambia quando come dire diciamo per l'orrore nazista per la recriminazione per anche come dire la condanna dell'arte contemporanea in Europa gli artisti si spostano per ripararsi per buona parte negli Stati Uniti Peggy partecipa a questo lei stessa torna negli Stati Uniti insomma in un qualche modo e quindi come dire l'Europa porta il meglio dei suoi frutti come dire del suo polline nei nuovi e lei lo restituisce con i due aspetti da un lato tutta la sua raccolta straordinaria di astrattismo futurismo perché ricordiamolo insomma era abbastanza curiosa come qualità ovviamente il surrealismo a cui lei in un qualche modo partecipa e dall'altra parte porta le sue giovani scoperte attenzione perché di Pollock non vi sono i cosiddetti dripping perché sono bloccati in dogana e quindi noi conosciamo questi problemi come idea insomma ma porta cinque dipinti dal 44 praticamente al 48 46 molto interessante quindi cambia quest'idea e poi c'è anche un grande ritorno che come dire scusate questa dovrebbe esserci un'altra foto ecco guardate solo la varietà Delunay Leger Kandinsky Mondrian cioè l'idea proprio che l'Italia a cui era stata vietata come dire la visione perché anche questo era la biennale far vedere dal vivo è stata vietata la visione dei grandi capolavori capisaldi della storia dell'arte contemporanea come dire neoavanguardia intese per quella dei primissimi dieci anni venti anni del secolo avviene proprio in questo momento insieme ai grandi protagonisti ecco allora che una cosa molto curiosa completa ancora di più questa biennale devo dire tutta da come dire da pensare cioè da pensare soprattutto con gli occhi di visitatori dell'epoca tra l'altro Peggy non fu neanche morbida con questo è noto insomma con Argan perché disse ah sono stata costretta a chiamare questo critico non mi sembra che capisca molto insomma però è molto bravo c'è questo architetto Carlo Scarpa però poi lo appesì insomma con questo piglio da nazione nel senso insomma il monumento di sé molto proattivo pare che Inaudi come dire trascorse qualche istante praticamente avvertito dai suoi accompagnatori come dire dell'ufficio del presidente dicendo faccia attenzione perché stiamo entrando in questa cosa eccetera eccetera quindi questa biennale era veramente come dire la possibile vera ricostruzione del pensiero contemporaneo in una prospettiva straordinariamente neostorica o meglio come ci insegnavano da piccoli dall'impressionismo al contemporaneo mai arrivati al contemporaneo ovviamente ma insomma come idea era un po' quello e questo era come dire l'ultimo il penultimo volume insomma della storia dell'arte ed era stato piuttosto interessante perché è la prima volta che gli italiani e il pubblico internazionale vedono quegli artisti tedeschi che erano stati rimossi dalla cultura nazista e ci sono in questa biennale 48 Karl Hofer Max Pechstein Otto Dix e quindi ritornano anche questi personaggi oltre ripeto perché è stata una presenza che ha cambiato insomma anche la sensibilità degli artisti italiani la retrospettiva di Clay quella di Picasso quella di Chagall e soprattutto quella di Kokoschka che aveva all'epoca una forza di natura pittorica straordinaria così come Clay l'aveva prima parlavamo stelle e linguaggi l'aveva per quella diciamo segnica e di contenuto in sintesi insomma che ci hanno come dire più volte aiutato a sottolineare insomma la cosa divertente gli inglesi grandi comunicatori quando presentano Harry Moore dicono che è l'artista che ha turbato di più il pubblico inglese dopo Turner e quindi Peggy presenta lei stessa delle sculture di Murta una che le fu sequestrata alla Dogana perché non era ritenuta abbastanza essere un'opera d'arte quindi il materiale con cui era costruito doveva pagare in un qualche modo il dazio all'epoca si diceva un'altra cosa che penso sia molto cara anche a Enzo Di Martino è la presenza tra l'altro di autori come Guidi ad esempio con una sala piuttosto importante con le sue figure nello spazio quindi l'introduzione alla come dire alla grande pittura italiana una sala piuttosto una sala una partecipazione di cinque opere di Lucio Fontana tra cui anche il suo concetto spaziale del 47 con le sculture che in un qualche modo valica il nostro dopo guerra è una partecipazione curiosa di Licini detto questo vediamo ecco ecco alcuni momenti tra l'altro un'altra delle sale cosiddette personali scusate delle mostre personali che avevano in genere più sale tra l'altro curata sempre appunto da Rodolfo Pallucchini curiosamente quella di Filippo De Pisis che vedete tra l'altro proprio con Kokoschka da cui fece come dire la biennale chiesa De Pisis di fare farsi tramite per avere Kokoschka in biennale che all'epoca torno a dire era veramente considerato come dire il grande protagonista di un certo tipo di figurazione sotto come vedete un'opera una piazza d'Italia che io ritengo ignobilmente De Chirico doveva aver spacciato per una cosa del 19 ma invece era stata dipinta eravamo nel 48 nel 65 se avesse potuto 30 anni dopo e questo è un gioco secondo me mirabile che lo fece ammirare ovviamente da un altro grande come dire l'estofante poetico della storia dell'arte che è Andy Warhol e di fianco invece la cosiddetta celebrazione di uno degli scultori secondo me più poetici riprendo sempre un termine usato dal presidente precedentemente italiani cioè il termine della poesia della semplicità della verità che ci citava Ciccutto insomma l'idea proprio di Arturo Martini come il grande protagonista dell'immaginario italiano in un qualche modo di quella parte di secolo eccola qui la giuria guardate l'elenco ecco quello che secondo me si stava divertendo di più era Marino Marini sulla destra che si sta guardando le scarpe insomma giovanissimo perché dovevano aver scelto Henry Moore probabilmente o una cosa del genere avrei veramente pagato per vedere questi gentiluomini pensare all'idea di semeghini casorati insieme poi gli storici dell'arte l'idea del lato guardate Venturi che sembra una sorta di fotomontaggio di se stesso cioè come dire bianco perfetto tra l'altro Venturi che scavalcherà da lì a poco l'altro grande protagonista fino ai primissimi anni 50 della Biennale di Venezia che era in realtà Giuseppe Marchiori che era un domino nel senso perché si rovesciava e cambiava come dire i giochi intorno al tavolo della Biennale e come dire mentre poi vedremo cosa in un qualche modo accadrà vediamo forse sempre terrorizzato eccolo lì questo per darvi l'idea anche di come veniva gestita questa campagna fra virgolette fotografica sempre con questa è una delle opere più straordinarie vi rubo ancora a dieci minuti ce la facciamo delle opere più straordinarie di Arturo Martini che addirittura si fece costruire un forno gigantesco per poter cuocere delle terracotte così grandi quindi è questo ritorno dei primissimi anni 30 fino al 34 35 in cui si riscopre l'Etruria si riscoprono gli etruschi si riscopre la terracotta la nobiltà della terracotta quindi come dire i forni cambiano l'idea loro giustamente vanno verso un lato che è quello come dire poetico unico ed è l'unico che riesce a gestirlo in questo modo straordinario schietto e poetico diretto come una poesia in una sintesi straordinaria altri invece andranno più in un campo penso al giovane Marino Marini come dire quasi archeologico di citazione di frammento peraltro sempre altissimo è meraviglioso insomma Martini è sicuramente un cantore straordinario vediamo questo qui entriamo in un campo curioso come dice sempre Ponti il presidente in questo 48 glorioso centenario storico del nostro risveglio politico ed il nostro risorgimento civile insomma la sala anzi le due sale che portarono come dire questa sorta di grande lotta clandestina ma abbastanza interessante mi piaceva quest'idea che ci fossero le fazioni un tempo e che non fosse solo il mercato o la politica a gestire queste cose insomma del famoso fronte nuovo delle arti però prima di arrivare a quello di cui abbiamo rarissime immagini uno dei personaggi più straordinari che devo dire ha governato il destino dell'arte contemporanea e che fortunatamente è riuscito a governare per un buon periodo in questo momento mi sembra abbastanza come dire visibile visto la posa della signora che è Palma Bucarelli davanti a Picasso probabilmente senza Palma Bucarelli lo dico senza nessuna come dire senza Palma Bucarelli la nostra galleria nazionale ma non solo la nostra stessa nazione non avrebbe tantissime cose di arte contemporanea e straniera ma anche come dire italiana e l'idea fu in un qualche modo oggetto di un'interrogazione parlamentare per un acquisto di un'opera per due volte una volta Burri una volta una merda d'artista e poi Manzoni dice come questa donna riuscisse a tenere oltre che ai cadavri dei suoi cagnolini sul tetto del giardino della Galleria Nazionale anche come dire le teste in un qualche modo dei potenti insomma è con un gusto con una capacità con una modalità di discernere straordinaria tra l'altro assolutamente straordinaria ed è come dire una delle testimonianze c'è una sorta di servizio quasi in queste oltre 14.000 foto ed eccola qui seduta alla contemporaneità o meglio una delle sale del fronte nuovo delle arti come ordinatore quindi le sale 39 e 40 come ordinatore Giuseppe Marchiori Giulio Turchiatto Giuseppe Santomaso Antonio Corpora Armando Pizzinato Renato Guttuso Emilio Vedova Alberto Viani Renato Birolli Ennio Morlotti Leoncillo Leonardi e Nino Franchina una sala che era destinata come dire a esplodere una sala come dicevamo dove ci sono veramente come dire la chiave della soluzione della transizione nell'anno in cui ricordiamo a Bologna fu detto che la pittura vera per rappresentare nello stesso anno pochi mesi prima dell'inaugurazione della Biennale la pittura vera per rappresentare la nuova politica italiana doveva essere esclusivamente figurativa esplode esplode in quell'anno e quindi il togliattano e soprattutto le minacce del partito fanno sì che all'interno stesso del fronte che tra l'altro affrontava delle tematiche molto interessanti avvenisse questa grandissima cesura e queste sale che rimangono comunque come uno dei documenti più alti come dire della cultura visiva italiana contemporanea del 48 poi come dire si spezzassero eccole con le sculture di Viani e poi Franchina e queste 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 ricerche straordinarie vivissime che si spezzassero e per la Biennale successiva trovo molto interessante il titolo di questo articolo è morto ragionando il fronte delle arti questo avveniva ovviamente al ristorante dell'angelo che si trova appunto dietro piazza San Marco verso il ponte dell'angelo questi erano i protagonisti Marchiori aveva la casa di famiglia poco prima dove la famiglia aveva anche una farmacia lui di Lendinara e questa è la come dire il sunto come dire della politica culturale italiana di un gruppo che per due anni come dire segnò ma la cosa interessante è che da quel gruppo nacquero appunto i grandi protagonisti dell'arte italiana questo è il volume della del di questo sono novecento foto su quattordicimila mi piacerebbe farlo avere al presidente spero di riuscire a farlo avere ed è come dire un percorso di quella che ritengo sia stata forse una delle biennali più incredibili non solo per l'aggiornamento che portava alla nostra nazione ma proprio perché destinata non a cambiare il mercato dell'arte o come dire il posto diverso tema a cui dedichiamo sempre troppo tempo tant'è che poi per tantissimi anni ci hanno costretti a viaggiare in tutto il mondo perché se no non si era abbastanza aggiornati e come dice Goethe in fondo non bisogna girare tutto il mondo per capire che il cielo è blu e la biennale anzi ringrazio anche tutto lo staff la biennale è il luogo in cui si capisce che si può viaggiare senza spostarsi ed è il luogo unico al mondo dove possiamo farlo e quindi l'idea è proprio quella di come dire di celebrare questa biennale del 48 come quella che invece ha cambiato essenzialmente proprio il destino e la rinascita dell'arte italiana dove Celiberti appunto ha presentato questo dipinto che in un qualche modo parla anche sempre quello di un viaggio insomma potrebbe essere una cosa anche anche curiosa vi lascio e vi ringrazio ringrazio ancora la biennale e il maestro per l'invito con le due parole di Giovanni Ponti molto curiose che appunto dicono fra i popoli non siano gare e contese scusate la banalità di questi giorni che sono sempre molto preoccupanti anche politicamente fra i popoli non siano gare e contese se non per il primato del bello e del bene grazie signor bene no il dibattito no a meno che non ci sia qualcuno che veramente non può resistere a qualche domanda e curiosità credo che dobbiamo essere molto grati a Giorgio Siliberti per averci dato quest'occasione per chi non lo conosceva scoprire la sua opera per chi la conosceva potersi raccontare al meglio come è stato fatto e anche perché è stato un importante legame con la storia della biennale noi ci vantiamo con un grandissimo peccato di Ubris di aver aggiunto una settima arte alle sei che compongono la biennale che è quella dell'archivio storico fatto vivere come le nuove tecnologie come l'impegno delle persone che ci lavorano come le possibilità che ci sono state date per la costituzione di questo centro internazionale per la ricerca sulle arti contemporanee merita diciamo di essere onorato credo che anche questo pomeriggio dimostri come questa nuova strada si ponga come una necessità e sia una strada da percorrere con entusiasmo e impegno quindi grazie a tutti voi forse oggi abbiamo fatto nascere il club degli amici della biblioteca dell'archivio storico delle arti contemporanee riceverete una newsletter sottoscriverete e potrete venire a tutti i nostri incontri grazie a tutti ancora e grazie al maestro Giorgio Siliberti ai nostri redatori e a chi ci ha accompagnato anche solo in video grazie 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 grazie